5, 4, 3, 2, 1, via! Sinistra 4, 60 Destra 3, lunga In sinistra 2, si apre E destra 4 In sinistra 1 In destra 3, lunga Intornante destro aperto In sinistra 3 In destra 6 In sinistra 2, media In sinistra 160 Destra 5, continua per 80 Si restringe, diventa 1, 60 Sinistra 1, lunga E destra 2, continua per 100 In destra 4, su clenale In sinistra 1, si restringe In destra 1, media Intornante sinistro aperto Sessanta Sessanta Destra 2, si apre Si apre, si restringe E poi intornante sinistro aperto Destra 2, lunga In sinistra 2, lunga In destra 5 In sinistra 2, media Quaranta Destra 3, lunga Si apre, continua 150 Su clenale Sessanta Sinistra 1, lunga E destra 2, lunga Ottanta Sinistra 5, su clenale Quaranta Attenzione, sinistra 5, si restringe Tornante sinistro, clenale E destra 5, lunga Cento, clenale E attenzione Destra 4, lunga Dopo il bivio Quaranta Si restringe Stai al centro Destra 3, dopo il bivio Continua per 80 Poi destra 4, lunga Ottanta Sinistra 5, lunga Su clenale 130, clenale Destra 3, lunga E sinistra 3, media Su clenale Poi destra 2 E poi attenzione Sinistra 3, non tagliare In destra 1 Sinistra 6, su clenale Sinistra 1, media E destra 2, lunga In sinistra 1 Si apre, 40 Attenzione Destra 4, muro In uscita Clenale 100 Attenzione Sinistra 3, dritto Poi destra 3 Subito tornante sinistra Destra 6, su clenale Sinistra 6, su clenale Attenzione Attenzione sinistra 5 Poi tornante destro Si restringe 190, su appossamento lungo Crinale Traguardo Sinistra 4, su clenale Grazie a tutti.